Chi è? Corriere! Oppa che miseria, mi sembra inchiamato l'ascensore. Però su lui. Cosa è questa storia? E la prossima volta non mandare i panettoni scaduti agli amici. Che triste! Perché il Natale è triste! E la prossima volta non mandare i panettoni scaduti agli amici. E la prossima volta non mandare i panettoni scaduti agli amici. E la prossima volta non mandare i panetitoni scaduti agli amici.